Benvenuto, benvenuta sul mio canale. Sono Jasmine Laurenti. Dopo una vita trascorsa come speaker radiofonica e doppiatrice cine televisiva, mi accorgo di avere un messaggio tutto mio. E allora che faccio? Decido di doppiare me stessa. Oltre a me stessa do voce a Ondina Wavelet, alter ego ispirato all'acqua e al suo affascinante comportamento in relazione ai suoni, ai diversi generi musicali e alle parole. Il dottor Masaru Emoto ne ha fotografato le molecole ghiacciate e ha scoperto che sono luminose e bellissime solo quando ascoltano la musica classica e sono esposte a parole che esprimono amore, bellezza e altri nobili valori. Ondina Wavelet World è il mio progetto di informazione, educazione e intrattenimento che ha lo scopo di rendere i bambini e gli adulti consapevoli del fatto che siamo composti per circa il 75% d'acqua e che se pensiamo, diciamo e agiamo parole meravigliose siamo più luminosi, più belli, più felici. Il progetto prevede la realizzazione di due libri, uno per i bambini in età prescolare, l'altro per i ragazzi, una web radio, un talk show televisivo e un film d'animazione. Tutti vedono per protagonista la nostra eroina acquatica Ondina Wavelet alle prese coi suoi nemici, conquistati all'amore grazie all'uso di potenti parole magiche. Vero Ondina? Fa ciao! Ciao con la malina! Immagina per un momento la meraviglia di un libro che educhi i bambini fin dalla primissima infanzia alla bellezza di valori come onestà, bellezza, amore, coraggio, generosità, amicizia. Una radio che trasmetta 24 ore al giorno, musica, notizie, frequenze che ti facciano stare bene. Un talk show dove gli ospiti intervistati raccontino di come sia possibile essere felici a prescindere dalle circostanze. E poi un film per tutta la famiglia dove si parli del potere benefico delle parole belle e buone. Sappi questo che per me e per Ondina la tua presenza è importantissima. Puoi iscriverti gratuitamente al canale attivando le notifiche per ricevere aggiornamenti. Puoi likeare, condividere e commentare i tuoi video preferiti. Oppure, e questa è la bellissima novità, puoi abbonarti al canale. Con Ondina d'Argento hai un badge colorato che compare accanto al tuo nome quando commenti nella live chat della Buonanotte da Eroe. In più puoi seguire le rubriche dedicate al benessere, alla salute, alla bellezza, al look, al food design, allo storytelling, al buon tonne la moda, le ricette della felicità e anche i video dedicati alla spiritualità. Con Ondina d'Oro, oltre a tutto questo, hai l'accesso all'esclusivo gruppo su Facebook Ondina Wavelet World. Qui puoi postare poesie, aforismi, citazioni da film, testi di canzoni, parole brillanti, parole bellissime, parole ad altissima frequenza vibratoria. Infine, con Ondina brillante, oltre a tutti i vantaggi che ti ho già detto, hai anche accesso all'esclusivissimo gruppo su WhatsApp dove ogni giorno ti mando un messaggio vocale di ispirazione. Grazie a tutti i nostri spettatori, Grazie a tutti i nostri spettatori,